Ma vero, grazie a questa Accademia è molto importante perché lavora sui giovani talenti, sul Mar Nero a Costanza e noi abbiamo anche quest'anno vinto un campionato, però ripeto, siamo molto attenti, focus con questi giovani, grandi giocatori, possono diventare in futuro, ma ripeto, bisogna essere molto preparati. Qui poi, sai, Casteldebole, credo che bell'impianto, mi piace, credo che Polonia sappia fare calcio dirigenti preparati, è davvero positivo, bello, ho visto bella coesione, spirito anche di squadra, è molto molto positivo. Ma l'Italia con la Svezia è una partita che è tutto difficile, si deve giocare poi sul campo perché non è facile nulla. Sì, Verdi, Verdi, giocatore ambidestro, bravo tecnicamente, una buona prospettiva per il calcio italiano. Grazie. 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 Grazie.